e amici dalla vostra gattaluna mi vedete senza sciarpina giacchino di lino vecchissimo di mugi cannottierina anche questa vecchissima color indaco sapete che c'ho la fissa per l'indaco in questo periodo e questa mi pare che sia di benetton la sciarpetta certo ce l'ho questo è di ovs color indaco anche questa c'era da navita e morbidissima ed è credo sia in pura viscosa non so l'etichetta non c'è più però mi sembra che queste siano di viscosa che sono cascami di cotone credo non so comunque lo dirà nei commenti chi ci capisce più di me venendo a bombola allora innanzitutto si parietto sul rossetto questo è un inedito meraviglioso originalissimo colore dei primi love di clio make up e in particolare questo si chiama voglio dire il nome esatto se lo leggessi e bisù bisù è un nude rosato malva su di me è molto malva credo però è veramente splendido questo è bisù bisù o tenete d'occhio è lo shop di clio perché ci sono si credo che ci sia ancora forse la spedizione gratuita non so poi non so quando vedrete questo video perché con ogni probabilità lo pubblicheremo più verso la fine del mese di luglio allora questo video è in collaborazione con la talentuosissima melania costantino virginia wolf su su instagram vero tesoro io poi mi metto a fare video ma controllassi una volta dico controlla si è wolf punto virginia su instagram mentre diciamo il su youtube è melania costantino talentuosa amante dei libri del make up donna raffinata e come dire naturalmente elegante e anche molto impegnata socialmente insomma esercita anche una professione importante ecco se già non la conoscete andate ovviamente sul suo canale guardate ovviamente il video corrispettivo a questo ma guardate anche i suoi altri video perché veramente c'è da imparare tantissimo mi ha fatto l'onore di invitarmi a questo questa collaborazione attraverso questo tag che si chiama i preferiti del mese melania ma lo spiegherà sicuramente lei nel suo video assai meglio di me intende formare un piccolo gruppo ecco che si vada a aggregarsi mensilmente raccontando i propri preferiti in diversi campi e che ora vi leggo sono dieci come dire domande in qualche modo ecco anche se forse non sono sempre esattamente sì e comunque si potrebbero poi fare formulare anche in forma di domanda che trovate sempre nell'info ma partiamo allora il primo la prima area di preferenze è film serie tv preferite o preferite del mese allora per quanto di lui mi riguarda io sono tornata al cinema in questo mese di luglio con grande gioia ed ero veramente emozionata e felice purtroppo i dati non sono più splendidi come a quell'epoca però alludo ai dati riferiti a questo macigno che pesa sulle vite di tutti noi ormai da un anno e mezzo è però siamo andati al cinema ci stiamo andando speriamo che si possa per sempre rispettando ovviamente tutte le regole quindi sono tornata al cinema con un film meraviglioso che mi ha suggerito che ci ha suggerito ed è venuta con noi a vederlo la nostra figlia Elena che sapete che è film maker e comunque si direi che è molto appassionata di cinema cosa abbiamo visto abbiamo visto il bellissimo film un altro giro è un film danese che è uscito in realtà il 20 maggio in italia adesso sto dicendo una sciocchezza può darsi che io l'abbia visto negli ultimi giorni di giugno ma spostiamolo a luglio che ce ne importa e è uscito comunque a maggio e a fune verso la fine di maggio in italia il regista è thomas winterberg non saprei dirvi si è fatto anche altri film credo che ha fatto il sospetto con lo stesso attore che protagonista di questo che è mad nickelsen che interpreta la parte di martin nel sospetto quello è un film che vi consiglio di andare a recuperare si trova su diverse piattaforme si trovava non so perché sapete che ogni tanto cambiano non è che i film ci sono per sempre su una piattaforma e non ricordo se l'ho visto su netflix o su amazon prime comunque è un film bellissimo un altro giro ispirato da una teoria secondo cui l'alcol promuoverebbe la creatività non è vero e io vi avviso quattro insegnanti di un liceo si lanciano in un esperimento consumando costantemente alcol per vedere come influisce sul loro insegnamento e ci saranno dei risultati inaspettati commedia agrodolce come dicono quelli bravi magnificamente interpretato con questa diciamo scenario che sapete i paesi del nord hanno un loro incredibile fascino è un film profondo appassionante magnifico io ve lo straconsiglio non c'è più nei cinema però credo che ci sia modo di procurarselo o in streaming o in altro modo poi magari anche sulle piattaforme anche sul replay potrebbero metterlo non saprei non so in questo momento se c'è su qualche piattaforma però per me straconsigliato poi il prodotto makeup preferito del mese per me la palette for o scope di benefit che è questa assoluta meraviglia in una bella scatola in un bel packaging robusto cartonato con un ampio specchio che fa ovviamente molto comodo con un foglio di acetato che vi consiglio di conservare perché vi dice come tutte queste polveri viso si possono utilizzare come vedete colori che possono essere gettonatissimi da tantissimi incarnati abbiamo la mitica terra hula sapete che esiste in diverse versioni c'è la hula light ma non scritto ligt è scritto lite che è la versione leggera per peli particolarmente chiare che è molto bella anche quella io l'ho avuta in questo momento non ce l'ho però l'ho avuta e poi il meraviglioso blush giorgia che è un pescato luminosissimo insomma molto bello molto estivo e poi questo lo adoro e proprio il mio blush ed è un e moon è luna di miele che questo rosato è un rosa perfetto secondo me che sta bene a tantissimi incarnati quindi se avete volete una coloritura più calda andate su giorgia se la volete più fredda on e moon è il vostro colore a volte io li miscelo si può fare come si vuole e poi c'è il credo che questo sia nuovo forse il blush e l'illuminante sono nuovi questi sicuramente già esistono e anche se però diciamo si possono acquistare separatamente cookie è un meraviglioso illuminante difficile da definire non so io direi rosato luminosissimo un po dorato ma non è eccessivamente caldo è molto bello si sia una grande palette se ne se avete bisogno di una bella palette viso il solito consueto packaging adorabile di di benefit bronze blush ed highlight palette earth angel 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 io sbaglio earth angel di for oscopi soliti insomma giochini di parole di benefit molto molto bello poi il brano musicale preferito del mese savasandir la raffa non so se si può sentirne di più comunque bellissimo purtroppo come tutti sapete ci ha lasciati non aveva aveva 78 anni era ancora attiva nel mondo dello spettacolo ma purtroppo una malattia di cui credo fosse affetta da tempo se l'hai portata via e questa era latte la terza area di preferenze 4 prodotto per la cura del corpo o del viso preferito del mese ma io vi dico sia del corpo che del viso del corpo va bene non ce l'ho qua comunque un boccettone gigante lo tengo in bagno ed è un tubettone non è una crema corpo in particolare il balsamo corpo texture leggera a topi a topi control di eucerin è una è un balsamo molto nutriente in questo periodo poi ho finito da poco una dieta quindi ho la pelle secca insomma io bevo tantissimo però sono quello che è poi l'età è quella che è e quindi questo idrata molto bene anche la mattina dopo vi sentite la pelle ancora morbida idratata senza essere grasso senza ne dovete usare poco perché veramente molto nutriente però io che non amo le creme grasse sul viso mai più però anche sul corpo non è che le ami tanto ma questa non appiccica vi potete vestire a patto che ne usiate poca se prendete una noce di prodotto penso che venga un inquacchio spaventoso ma se fate una nocciola di prodotto per ogni area del corpo nocciola e vi fate un braccio nocciola e vi fate un altro bra come bisogna procedere così sennò vi fanno un inquacchiamento termine tecnico inquacchio l'altro prodotto invece però invece questo cielo qui per il viso che vi consiglio è il siero viso idralift di peterac care peterac è un brand molto attento al green e questo credo che sia uno dei suoi primi prodotti della sezione care perché loro finora un prodotto più che altro makeup e questo è un prodottino ed è sostanzialmente un finishing serum cioè si mette sul vostro faccione ne bastano due pump tranquilli tra l'altro ha un prezzo molto interessante che adesso vado anche a vedere perché non me lo ricordo mi sembra che costa intorno ai 30 euro quindi prezzo molto interessante e ed è con sodio ialuronato nickel test ed eccetera eccetera sono 30 millilitri in questo bel packaging robusto in vetro ma bello robusto il mi piace tantissimo il beccuccio perché si può ovviamente girare per bloccarne la fuoriuscita ma c'è anche un piccolo ops adesso qui non lo trovo comunque c'è anche un piccolo fermo un cappuccio diciamo sul beccuccio un cappuccio sul beccuccio che vi consente di portarlo anche in viaggio senza fare macelli la creatrice è giulia cova ma non ve lo consiglio per questo anche se da giulia mi aspetto sempre il meglio ma è veramente efficace rimpolpa quindi finishing serum vuol dire che dovete mettere al termine della vostra skin care ma della mattina o della sera o di tutte e due io la uso lo uso al mattino rimpolpa liscia illumina ce lo so anche adesso e migliora la tenuta del trucco perché funge anche da primer benissimo poi libro fumetto graphic novel preferito del mese se mi seguite sapete perché di solito finisco un libro e faccio un piccolo video su youtube l'ultimo libro che ho finito di roberto saviano edito bonpiani overlook e gridalo chi fosse interessato può andare a vedersi la diciamo recensione si fa per dire vi leggo solo la quarta di copertina gridalo che tutto può cambiare gridalo forte ti voglio portare al punto dove sar starà a te perderti al punto dove sono arrivato io cosicché tu possa partire da dove io non ce l'ho fatta ad andare oltre è un uomo adulto che parla al se stesso giovane non voglio farti percorrere strade già battute per tenerti per tenerti dentro a un sentiero segnato non voglio insegnarti la prudenza al contrario voglio portarti nel punto in cui la prudenza deve diventare azzardo e la saggezza a temerarietà perché forse è solo così se arriva a tracciare una strada nuova 22 euro di bellezza di grande scrittura di grande incisività ma poi si trovano sempre sconti comunque non è tanto è con bel librone solido scritto anche piuttosto grande comodo da leggere e sono 500 pagine che vi bevete in pochi giorni perché non potrete mollarlo molto consigliato cibo preparazione culinaria preferito del mese sono andata sono tornata dopo tantissimo tempo con delle amiche perché c'ero andata al ristorante ma magari con la figlia quindi diciamo in famiglia quindi con delle amiche la prima volta che ci vado da esattamente un anno sempre con queste stesse amiche ero andata a metà luglio del del 2020 e siamo stati a un in un magnifico in una magnifica trattoria che segnatevela si chiama osteria visconti e sta in via visconti a monza e ho mangiato una magnifica tagliata con verdure lo so non bisognerebbe mangiare gli animali o quando ci penso se mi fermo a pensarci provo orrore l'ho già detto in altre sedi però ogni tanto cedo magnifica con delle verdure niente tra l'altro cambiano continuamente menù i loro piatti sono il risultato di una vera e propria ricerca culinaria molto consigliato è un piccolo locale quindi dovete assolutamente prenotare a parte che è obbligatorio in questo periodo va bene procediamo non ci fermiamo quindi il capo d'abbigliamento preferito del mese voi sapete ho fatto un ordine da lucchiero e il mio capo preferito sinora mi perdonerete ma non è ancora stirate questa magnifica blusa in seta artificiale con questo taglio meraviglioso a v e questa v rovesciata sotto il seno dove si arricchisce diciamo la stoffa diventa più abbondante vedete fa queste due da questi due diagonali che formano la scollatura molto morbida dietro così cade morbida bellissima l'ho messo alla sera che sono andata con le mie amiche punto è lavato ma l'ho lavata a mano perché mi sembra un tessuto piuttosto delicato comunque con lucchiero io mi sono trovata molto bene sicuramente in autunno farò un ordine da loro ci hanno molto azzeccato nel senso io questa l'ho indossata con la giacchina che proponevano loro di associare perché sulla sera può sempre fare un po freschetto in realtà faceva un caldo becero quindi non l'ho usata pur essendo freddolosa io ho abbinato un paio di pantaloni blu morbidi di zara molto belli ce li ho anche in nero e sono i miei pantaloni eleganti gli unici che posseggo e quel genere diciamo morbidi in una specie di crepe crepe de chine si dice una volta non lo so che questo col blu sta benissimo ovviamente il giacchino è di un tessuto di il cotone leggermente bucle bianco e blu quindi apoteosi e avevo credo una sciarpetta l'avrò avuta blu penso di sì ok la sciarpetta non la ricordo però lo chiedo aspettami che in autunno arrivo poi commento ai video e i video i commenti preferiti del mese io non mi posso lamentare ho dei follower veramente sempre molto gentili a volte anche esagerati nei complimenti mi sono piaciuti tanto tutti quei commenti che dicono mi fai stare bene sei evasione guardo i tuoi video mi rilassano ce ne sono tanti e vediamo un attimino se ne becchiamo al volo qualcuno vediamo un po' ecco vediamo un po' sugli ultimi degli ultimi questo qua che ho fatto del look super colorato che vi è piaciuto abbastanza certo le visualizzazioni un pochino diminuiscono ma è normale la stagione per esempio questa questa esagerata che sei luisa 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 saffiotti mi scrive non si può fermare il tempo ma neanche l'eleganza interiore ed esteriore che a mio avviso ti porterai dietro con o senza rughe quando ti prepari sia la quintessenza della femminilità la tua ironia denota vabbè grande intelligenza esagerata e un bacione e poi sei di un umorismo irresistibile bel trucco colorato ma delicato l'audio era ottimo questa è Valeria Grasso poi c'è Giuselle signora lei sta benissimo ed è molto raffinata un buon pomeriggio a lei Antonella Pellizzola ciao Paola bellissimi colori di questa palette i colori accesi mi piacciono un sacco stai benissimo ciao al prossimo video Silvia Ricci sei una signora bellissima ma va Silvietta esagerata e guardarti mentre ti prepari è sempre una gioia e poi la Melania la mia adorata Melania Costantino con cui sto facendo questo video che dice sembri una pittrice che dipinge una tela il make up ti dona e tu sei bravissima vabbè eccetera eccetera che bel trucco viva l'estate con anche Alessandra Ambrosino che mi segue spesso direi forse sempre Serena Guccione tutto meraviglioso come sempre e mi dice che lei è di Palermo come l'amica con cui ho fatto il video eccetera eccetera ciao tesoro che bello che è questo trucco mi piace combinare i colori e via 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 intanto sto mettendo un po' di cuoricini perché poi non è a Tussina Cosa Grandi mi scrive Florigia 72 eccetera quindi come vedete sono sempre direi che sono sempre commenti molto molto carini di cui ovviamente io vi ringrazio perché mi siete tanto di conforto perché momenti difficili insomma ne abbiamo tutti quindi grazie 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 poi l'accessorio preferito del mese per me è questa meravigliosa borsa che vi devo far vedere bene ho fatto a conviglio IGTV e ragazzi no vabbè scusate ma guardate la meraviglia questo è di Frantoni Roma il sito è Frantoni Roma cercatelo Antonella Camilla è il nickname della carissima ragazza su Instagram che me ne ha omaggiato potevo scegliere quale borsa prendere dal loro sito ce ne sono di bellissime andate a vederlo tutte in vera pelle e questo è lo zainetto Marilyn zainetto ma molto capiente di pelle resistentissima e Marilyn e questo è il colore perla che è un grigio molto chiaro molto elegante guardate la linea poi avete due tasche equilaterali dove potete mettere il cellulare le chiavi di casa dentro c'è un sacco di spazio insomma ecco quindi veramente bellissimo ringrazio Antonella Camilla di questo meraviglioso omaggio che mi ha fatto e poi c'è un omaggio per tutti voi e per tutte voi se siete interessati andate sul sito e con il codice tutto grande gatta 20 avete uno sconto immediato del 20% che non so presumo che si possa sommare agli sconti che già ci sono perché in questo momento è tutto in saldo provate a vedere gatta 20 tutto maiuscolo col numero ovviamente poi l'ultimo l'ultimo l'ultima area di preferenza è cronache dal nord e cronache dal sud parole fatti o riflessioni del mese dal profondo nord e dal profondo sud penso che a me tocchi il profondo nord anche se per me parlare del sud è sempre una grande emozione io sono come sapete molto legata alla mia città d'origine che è Napoli per me parlare del sud mi fa subito volare il mio cuore verso Napoli e la mia ho vissuto lì fino ai nove anni quasi dieci ne avevo quando siamo venuti ad abitare a Milano in una zona tra l'altro bellissima la casa era molto grande molto bella ma dentro c'erano i soliti i soliti nostri mobilacci sgarrupatissimi immorotti insomma vabbè quello che era e che quando si facevano i traslochi mia mamma mi ricordo che si vergognava sempre di mostrare questi mobili sempre scassati e comunque e che sopravvivevano diciamo alle ire del mio papà e quindi poi tante cose si sono rotte per l'uso perché noi ragazzini le sciupavamo anche mi ricordo che avevo un tavolo una vecchia ma non era una scrivania era un vecchio tavolo su cui io studiavo mi facevo i miei compiti di scuola elementare io scrivevo sul tavolo ma dove avevo la testa e nessuno mi diceva niente perché gli adulti avevano altro per la testa non badavano tanto a noi ragazzini diciamo sì per il dovuto ma non particolarmente e io ci avevo scritto sopra vabbè credo però che quel tavolo l'abbia recuperato il mio fratello uno dei miei fratelli e l'ha ripulito tolto le scritte credo che ce l'abbia ancora da qualche parte forse nella casa che ha al mare in Sicilia va bene quindi che cronache posso darvi diciamo che in questo periodo la fa da padrone un tema che ben conosciamo non è l'unico ce ne sono tanti altri ma direi che questa esperienza di quest'ultimo anno e mezzo ci ha insegnato che bisogna essere uniti non che io veda una particolare unione non la vedo né tra noi ed altri paesi anche se la situazione diciamo di collaborazione con gli altri paesi sicuramente migliorata né tra le forze politiche in campo ecco adesso non voglio trattare temi che sono troppo importanti troppo complessi non ho alcuna competenza per trattarli sicuramente solo superando gli steccati solo trovando diciamo su certi temi bisognerebbe superare le differenze politiche o ideologiche se volete chiamarle così e guardare il bene comune ecco questa è la cosa che secondo me non credo non vediamo ecco nella nostra classe politica e forse non so se c'è qualche paese che messo meglio non ho idea ma guardare il bene comune non quello che ci porta più voti ecco non so come dire attenzione il 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 mitico carlo bocchetti sta per uscire dalla cucina dove sta preparando la ancor più mitica sua pizza bene questi sono i dieci i dieci quesiti quindi direi rispetto alle cronache dal nord questa riflessione mi viene da fare per me è difficile definirmi lo diceva forse è la paola style tesoro torno a fare video che ci fai felici proprio rispondendo a questo quesito è difficile per me poiché al sud ci sono nata e comunque delle radici profondissime è difficile e so che anche melania è d'accordo sicuramente d'accordo su questo dividere tra cronache del nord e cronache del sud quest'ultima esperienza ci ha insegnato che ci sono cronache dal pianeta comunque è giusto affrontare e comunque è un'area di diciamo un quesito sicuramente molto intrigante speriamo nei prossimi mesi di poter affrontare anche altre tematiche che possono unire ancora di più il nostro nord con il nostro sud e il centro ma non so va bene dai e comunque io adoro l'italia tutta ma so che lo spe lo spirito di questo quesito era proprio l'unione è ovvio ok questo insomma il modo in cui sono senza essermi neanche eccessivamente preparata le mie risposte a questo bellissimo tag che trovo molto molto intelligente intrigante stimola il ragionamento e quindi un grande bacio ovviamente a melania la ringrazio ancora della fiducia che mi ha accordato per me un onore partecipare ai suoi tag e a tutti voi amiche e amici un grande abbraccio ricordatevi di fare ciò che vi fa stare bene che è sempre una buona cosa e amiche e amici ciao dalla vostra gattaluna e alla prossima oggi è domenica buona domenica ciao Grazie a tutti.